La radiologia interventistica è una branca della medicina ed in particolare della radiologia che utilizza tecniche di imaging come la flotoscopia e cioè i raggi X, gli ultrasuoni, l'attacca e la risonanza magnetica per eseguire delle procedure terapeutiche mini-invasive. In alcuni casi si parla di interventi risolutivi in altri di tipo pagliativo tramite il quale si tende a dare una migliore condizione di vita al paziente. Trattandosi di terapie mini-invasive queste procedure risultano ottimali per il paziente anziano candidato non ottimale per l'anestesia generale. Si può pensare ai pazienti con problemi di tipo cardiaco o respiratorio grave per i quali tramite queste tecniche si riducono i tempi dei ricoveri con una riduzione dei costi della sanità.